Fondali insabbiati, imbarcazioni incagliate e gara saltata. È l'epilogo di una domenica di problemi al porto turistico Marina di Pescara quando alcuni skipper pronti per uscire in mare e partecipare a una regata sono rimasti incagliati con le loro barche a vela prima di uscire in mare aperto. La situazione si era già verificata il giorno prima, ma gli operatori del Marina in soccorso ai diportisti erano riusciti a sbloccare le imbarcazioni consentendo loro di prendere il largo e partecipare alla regata in programma sabato. Domenica invece annulla e valso l'intervento degli operatori del porto turistico gli skipper, irrimediabilmente bloccati, non hanno potuto far altro che annullare la gara. Luca Di Tecco, presidente del porto turistico Marina di Pescara, la situazione qual è ad oggi? Purtroppo per noi non è una novità perché il porto turistico Marina di Pescara ogni anno ha questo tipo di problema dovuto appunto un po' al tipo di progettazione come è situato il Marina di Pescara e soprattutto alle correnti che soprattutto in inverno si abbattono sulla nostra costa. Noi ogni anno tra l'altro draghiamo il Marina per far sì che tutti i diportisti in estate possano tranquillamente transitare nel nostro porto turistico. Tutto ciò pesa tantissimo sul bilancio del Marina. I costi sono importanti, sono cifre da 6-0. Quest'anno tra l'altro abbiamo avuto degli eventi atmosferici particolari, abbiamo avuto delle basse maree che hanno portato i fondali anche ad un metro e quindi per noi questo chiaramente non è una novità. Dobbiamo ogni anno dragare, tra l'altro quotidianamente il Marina di Pescara monitora e comunica la batimetria a tutti gli utenti, a tutti i diportisti che sanno qual è appunto la situazione. Se avessimo dragato nel mese di febbraio, come vediamo oggi c'è una mareggiata particolare, ci ritrovevamo sempre nella stessa situazione. Quindi dobbiamo necessariamente aspettare il mese di maggio per far sì che almeno fino a settembre ci sia una situazione facile per tutti i diportisti. Le sabbie che analizziamo anche qui ogni anno grazie all'Arta hanno una qualità eccezionale che potrebbe essere riutilizzata per il ripascimento delle nostre spiagge, ma anche qui faccio un appello alle istituzioni e ai balneatori per poter appunto usufruire di questa sabbia che noi prontamente draghiamo e stocchiamo sulle nostre banchine, ma negli anni a venire nessuno ha usufruito di queste sabbie. Grazie a tutti.